Stai facendo già? Sì! Ah ok, no, ok, allora ciò... Sono riuscito, dopo un bel po', penso un'oretta, qualcosa così, perché poi c'era anche la gente che si menava per superare la coda. Dunque sono riuscito a provare il Letty 2 e... Bisogna farci un videoconsole bene, un videoconsole tipo bene, perché delle cose sono belle e strafighi effettivamente, altre no, altre assolutamente no. Ciao gamer, appena tornato da Games Week, io ho provato l'Oculus, io no. Antonio è una persona malvagia e non mi chiama mai. No, vabbè, comunque alla fine... Sì, 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 scusa, scusa. Sì, scusa, scusa, vai, vai. È giusto, secondo me, aggiornarvi un attimino sul nuovo prodativo perché finalmente l'ho provato, ti dico un po' come... Di Oculus Rift? Sì, di Oculus, sì, 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 ho detto. Quindi Antonio che hai provato l'Oculus e io no. Sono quella barbetta col bastone in questo momento. La cosa, la versione 2 perché noi... Death Kid 2. Ce l'abbiamo l'uno. Abbiamo l'uno. Com'era? Allora, eh... Eh, l'Oculus è diventato Sonic, cioè è uscito dai video di... C'è un po' di coda. Era. Era qualcosa. Era, l'Oculus era. Era, era, però... Aveva, intanto, domanda... Intanto era, perché è importante, perché quando l'ho visto fisicamente lì... Domanda importante, aveva le flip-flops? No, non c'erano le flip-flops. Se non capisci questa battuta... Ehm... Non lo so, che si può fare? Boh. Gliela facciamo vedere? Usare edit. Usare edit. Usare edit. Non era abbastanza. Questo è la... Si vede ancora di più che è un prototipo, mentre col Death Kit 1... Cioè, ottica, ti accorgi che è un prototipo... Però, dici, vabbè, potrebbe funzionare. Col Death Kit 2 dici, no. Questa cosa non può funzionare qui sul mercato. Quindi, peggioramento? Ehm, sì. Cioè, allora, ha alcuni vantaggi, per dire. C'è la risoluzione maggiore, c'è il positional tracking. Però, non ho tollerato quelle dannate barre. Questa cosa di trasformarlo a forza di full HD e ridurre il fogo... Se veramente, si vedono i bordi neri, eh. Molto di più di quanto non si vedono su DK1. Le bande nere. Le bande nere a destra e a sinistra. Ma, e cosa? Palmer aveva detto che non si vedevano. Palmer si l'aveva detto. Allora, Palmer ha detto... Palmer, che è il capo d'azienda. Quello con le flip-flops. Esatto, quello... Già esplorato tutta la ricerca. Quello con le flip-flops... Ha detto... Tranquilli, vi deduziamo il campo visivo da 110 gradi a 100 gradi, ma non vi accorgerete. No. Anche questo è un altro problema. Sì, appunto, le bande nere le vedo per quelle, per il FOV. Perché il problema qual è? Andando su tecnicismi, lo schermo ha cambiato formato, ha in 16 noni adesso. Sì. E questo lo fanno perché gli schermi li da Samsung, quindi non eviteranno mai questo problema. E averlo in 16 noni non rispecchia la visione normale. Tu non vedi il mondo dei 16 noni, ok? Sì, in effetti il 16 noni ha... C'è le due barre. Esatto. Quando tu guardi un film compaiono due barre. Quello è perché è il Decimi, è un'altra cosa. Sì, quello lì è anche in Decimi. È un'altra cosa. È il Cinemascope. È il Cinemascope. Comunque, sì, ci sono queste cose fastidiosissime. Non ho capito se col Crescent Bay le hanno risolte, perché effettivamente le lenti nel Crescent Bay ti ricordi che sono tipo... Sì, hanno detto che l'hanno più in parte risolta. Sì, l'aveva detto anche col Decimi 2, però... Crescent Bay significa prototipo mio, dico quello che voglio. Sì, sai qual è la cosa? Io sto notando che finché stavano su Kickstarter erano sinceri, ora che da quando ce le ha... Signor Zuckerberg, iniziate a raccontare balle. Potete evitare, per favore. Perché io lo montate le bande. Porca vacca, cioè cosa mi viene a dire? Non le vedi le barre. Quando lo provi le vedi. Fra poco vedrai le barre blu. Sarebbe un tocco di classe. Altra cosa, la risoluzione effettivamente è migliorata. Mi piace. Si vede ancora i griglioni? Si vede ancora la griglia, un po'. Però, insomma, cioè... Non è più una tanzariera, ecco. E meno fastidiosa. Un po' ancora si nota, però... Certo, non è ancora a punto di mercato. Quindi ci vuole il 2K. Minimo, minimo. Però secondo me quel 4 si andrebbe meglio. Ora che ho provato il Full HD, lo dico un po' con più certezza, il 2K, sarebbe buono a contentarsi. Sì, sinceramente. Mi dispiace, però è così. Bisogna aspettare Samsung, perché... Eh, esatto. Blur non c'è più. Non c'è più Blur? Non c'è. Assolutamente. Almeno io non l'ho notato con i miei occhi. Non l'ho notato. Nausea? Nausea. Ho provato le montagne lusse, quindi non lo so. Forse sì. Tu ne hai avuta. Io ne ho avuta un po', sì. Ne ho avuta un po'. Però c'era anche il fatto che praticamente non ho ben capito se fosse perché magari la webcam davanti era stata messa un pochettino male o se la demo facesse un po' schifo. Però il problema è che nel momento nel quale mi lontanavo giusto un tantino troppo dalla camera, mi ritratrasportava in centro. Questo mi dava molto fastidio. Eh, immagino. Però il professional tracking è figo. C'è il fatto che puoi davvero inclinarti, così questo... Sembrerà un pazzo. Così, è bello. Mi piace. Bravo Oculus. Bravo. Bravo tu. È Oculus che costruisce se stesso. È generato... No, non lo dico, ok? Vabbè, comunque... No, non... È stato parecchio figo. Prima che finiamo di questa cosa, devo ringraziare GameTime, naturalmente. Sì. Ah, è stato GameTime. Sì, è stato GameTime. È stato GameTime che l'ha fatto provare. Se guardi la televisione, strumento da me sconosciuto, valli a vedere. Sì. Anche da me sconosciuto. Cioè, fa conto che la mia TV si è rotta due anni fa... E basta. Non esiste più per me. Io ho il televisore che fa anche da monitor, quindi ogni volta devo sorbirmi 5 secondi di Barbara D'Urso prima di poter passare al PC. Comunque, GameTime che aveva lo stand insieme a 1 euro, insomma, tante cose belle, The Game Week. Nel senso, l'anno... L'anno scorso erano di gran lunga meglio organizzati. Mi dispiace questa cosa. Ma può essere che ci sarà stato casino. C'era casino. Primer, oh mio Dio, c'è un furtivo di gente in questo momento. Si può dire furtivo, non lo so, l'ho detto. Non sono neanche da esistire le mie voci in realtà. Quindi forse è per quello. Però mi avete rovinato la mia esperienza, dannazione! Noi che abbiamo fatto provare a poca gente abbiamo avuto problemi. Sì, eravamo disperati. Madonna. Madonna. Comunque, Antonio mi diceva che uno dei problemi era il fatto che hanno fatto provare delle demo magari non adatte. Esatto. Cioè, nel senso, ho visto addirittura che alcune persone, tipo Luigi, che era lì con me, gli hanno fatto provare delle demo che non erano nemmeno pensate per il Dev Kit 2. Cioè, quindi non poteva funzionare le positional tracking. Vabbè, quindi... A me mi hanno anche chiesto, vuoi provare il Dev Kit 2? Io ho detto, no! Non lo voglio! Non mi interessa niente! Tenetevelo! Non voglio provare il Dev Kit 2, non l'ho già provato! Basta così! Però c'era anche, per dire, nella mia demo, appunto, come ho detto, c'era questo problema che appena mi spostavo un po' troppo... La demo, intanto, non era fatta... Era una demo sbagliata. Cioè, aveva già... Aveva decisamente alcuni problemi per il positional tracking. Cioè, appena mi sponevo troppo, si resettava e ritornavo esattamente dove ero all'inizio. Questo non andava bene. C'erano vari problemi con le... Le demo forse non erano neanche così adatte, ecco, sì. Quindi, vabbè. Dunque, passiamo subito alla domanda. Ah, la domanda... La domanda... Leggiamo dopo le risposte a questo punto, allora. Sì, leggiamo dopo le risposte. Siamo al capovolti, leggiamo le risposte dopo che... Allora, 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 allora... Pensiamo bene alla domanda. Non lo so la domanda. Non so se... Quindi, domanda, dopo vari casini, l'abbiamo appena concepita, la domanda. L'abbiamo appena concepita. Allora, quindi fresca, fresca, fresca. Sì, la nostra domanda è... Quanto tempo prima di Sao? Esatto. Sao cos'è As World Art Online? As World Art Online, se non lo sai... Chiudi questo video, vai a... Anzi, non chiuderlo, mettilo in pausa. Vai a cercare cos'è As World Art Online, guardatelo tutto. Tutto, poi torna sul video. In questo momento ho circa 40 episodi, tra prima e seconda stagione, mezz'ora l'uno. Poi benissimo entrare in una serie di... Poi dopo torni qua e continui a guardare il video. Esatto, sempre all'interno degli stessi due giorni di raffica. Esatto. Allora, comunque, Sao fondamentalmente sarebbe questo anime in cui si mettono i Nergir. Il Nergir, che è una specie di caschetto per la VR, diciamo, dove ti addormenti. Entri dentro il gioco, è come se sognassi il gioco. Puoi proprio muoverti con i tuoi muscoli, è parecchio figo. Quanti anni ci vogliono? Secondo l'anime nel 2025 arriva. Ma è possibile? Mi fecici in mezzo all'illuminati, magari. Prima però andiamo... Prima, adesso, adesso, dato... Sì, abbiamo riavvolto il nastro. Sì, leggiamo le risposte della volta scorsa. Allora... La domanda della volta scorsa era... No, il loro parere su Paper dopo averlo giocato. Sì, il vostro parere su Paper, please, dopo che l'avete giocato, oppure... Ok, TheAstral100 scrive... Non lo riesco a leggerlo. Hashtag lungo. Non ce la fa... Leggi. Questo gioco lo giocherai anche in piscina perché guida i console, un canale molto... Ho. 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 Hashtag ho. Allora, io ho sempre amato... Amato questo gioco. Lo conosco da tempo, ci gioco quasi ogni giorno. Wow. Neanche io sono arrivato a questo livello di difendenza da Paper B. Dove essere figo, però. Quindi, secondo me, questo gioco è bellissimo. Emozionante, è magico, sì. È magico, posso confermare. È magico con 4G, non con 3. Beh, lui ne ha messo 3, però. Però ha messo 4O, quindi si ricompensa dopo. Quindi va bene così. Allora, vai con la seconda? Allora, Marco... Aspetta, Marco Fregoli si scrive... Iscritto ricambi. Direttamente allo YouTube 2010. Esattamente. Quindi, ragazzi, ricambiatelo, per favore. Fate questa cosa. È importante. Siamo tornati a YouTube 2010. Allora, andiamo con... Ok, ho V che scrive hashtag Vascaquiz. Vasca. Ormai, cioè, vabbè. Va bene ormai, va bene. È delirio puro. È delirio e va bene. Allora, non si gira più, bon. Allora, che è? Devi dare botte. Mi è piaciuto molto, ma non giocateci mai con amici a casa. La trama è bellissima. Sì, è vero. Devi chiuderti, devi nerdare, non devi avere vita per quelle ore. Esatto. Magari puoi tornare a respirare. Però nel frattempo devi giocare a quel gioco da solo. È una cosa rilassante. E godertelo tutto. Esatto, senza... Probabilmente in uno shot direte proprio, cioè... Sì. Io me lo sono giocato in uno shot proprio... Già. Dalla mattina alla sera. Cioè, un avvio del gioco. Tempo medio, sei ore di gioco. Esatto. Allora, siccome abbiamo fatto un po' casino, ripetiamo di nuovo la domanda per sicurezza. Sì, la domanda era quando SAO. Quando potremo giocare a SAO. Quindi, se ti è dimenticato cos'è, tornati troppo nel video. Risposte migliori? Verranno lette la prossima... Nella prossima puntata. Siamo un po' roginiti oggi, si sa, si sa un pochettino. Nella prossima puntata. Troppi lapsus temporali e robe varie. Esatto, siamo appena usciti dal buco. Siamo tornati adesso dal buco temporale. Quindi, comunque... La migliore verrà letta nella prossima puntata. Sì, ci siamo. Se il video ti è piaciuto, ammetti mi piace. Iscriviti al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao, gamer. Ciao. Pixel... Sì, ancora sì. Adesso non so cos'altro facciamo. Penso che manzeremo le caramelle a maggio perché sono buone, in teoria. Grazie. 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 Grazie.